I cittadini milanese chiedono la nascita della città metropolitana e vogliono determinarne con voto diretto il suo sindaco. Questo quanto emerso dal sondaggio presentato durante il convegno tenutosi a Palazzo Isimbardi alla presenza del presidente della provincia Guido Podestà e del sindaco di Milano Giuliano Pisapia. La creazione di questo nuovo ente è un passaggio cruciale per migliorare i servizi e ridurre i costi in un'area conurbata come la nostra ha dichiarato Podestà. Si è parlato di governo metropolitano anche nel tradizionale incontro un pomeriggio a Palazzo Isimbardi con il presidente e la giunta. Come ogni seconda domenica del mese i cittadini hanno potuto confrontarsi con gli amministratori della provincia facendo domande e suggerendo ulteriori temi di interesse pubblico. Informazione e accoglienza turistica, questo allo IAT della provincia di Milano, un ufficio aperto anche la domenica in piazza Castello 1, pronta a rispondere alle richieste dei visitatori di città e provincia. Per avere notizie sui servizi e numeri utili, essere aggiornati sugli eventi dell'estate, sono disponibili ora anche la pagina Facebook Visita Milano e il sito consultabile da cellulare visitamilano.mobi. Per ogni informazione visitare il nostro portale www.provincia.milano.it www.provincia.milano.it